Il sindaco Riccardo Poletto torna in classe. Nessun esame di riparazione, almeno per il momento. Con l'assessore Oscar Mazzocchin, mercoledì andrà a salutare gli studenti impegnati nel primo giorno in classe. Alle 8 e mezza appuntamento alla scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti. Alle 10 sarà la volta della scuola primaria General Giardino di San Vito. E poi alle 11 e un quarto, per concludere, alla scuola secondaria di primo grado. Giusto Bellavitis in via Colombare.